E allora il Napoli batte 4-0 il Teramo con una tripletta di Osimè che non si ferma più e un gran gol di Lozzano. Finisce il ritiro di Castel di Sangro, adesso ci sarà poi l'amichevole, non so quando, con il Pescara al San Paolo. Si parla anche dello stadio mezzo aperto, vedremo, vedremo. E niente, partita ancora nel segno di Osimè perché segna 3 gol e questo è uno che ha toccato 4 palloni in area di rigore, ha fatto 3 gol e ha sfiorato il quarto, quindi è un animale d'area di rigore. Questo mi rendo conto degli avversari, sono Castel... no, anzi, Aquila e Teramo, lui con il Castel di Sangro non ha giocato. Però, per come la vedo io, ci sono alcune, diciamo, alcuni spunti, alcune caratteristiche di un giocatore si possono vedere anche in queste partite. E uno è comunque con così pochi palloni, segna. Ma, diciamo, poi ovviamente li voglio vedere anche col Pescara, col Pescara sarà certamente un test più decisivo e soprattutto quello con lo Sporting Lisbona. Ma, per il momento mi sento di dire che Osimè sia uno d'area di rigore, sia un giocatore d'area di rigore. Ho già detto l'altra volta, ma come abbiamo sempre detto, come si sapeva già, che Osimè è uno che se lanciato in velocità è infermabile perché è molto veloce e riesce a tenere. Una cosa che già avevo mostrato un po' di preoccupazione già al suo arrivo, già nella scorsa amichevole, e in questa è uno che palla al piede non è che mi faccia impazzire, spiego. Se è lanciato in velocità palla al piede va bene, però se c'è nel senso in profondità. Se invece si trova contro un difensore che lo deve dribblare, lo deve saltare, lì lo vedo un po' in difficoltà, cioè non è riuscito a fare un dribbling in tutta la partita. A tenere palla, diciamo, gli ho visto fare qualche sponda interessante, però qualche altra sbagliata anche un po', diciamo così. Quindi, vabbè, è certo un giocatore che va visto, è giovane e deve comunque essere molto lavorato, è uno che già vedendo qualche video dell'Ill e tutto, era uno che giocava poco, diciamo, con la squadra, era uno lanciato più in profondità. Quindi forse a pensarci un 4-2-3-1, diciamo, il modulo poi sarà quello che sarà, però diciamo fargli giocare vicino un'altra punta, una seconda punta alla Mertens. Forse è un'idea, perché comunque penso che lui abbia un po' di difficoltà, e la mostrerà almeno agli inizi, un po' di difficoltà a giocare da solo e a reggere tutto l'attacco e a fare reparto. Perché i gol, secondo me, li ha. Però ho un po' paura per quello che viene prima, per tutta la costruzione. Perché poi, diciamo, ci stiamo sempre ostinando a fare la costruzione dal basso, un gioco poi così, vabbè, che con queste squadre questo devi fare, per carità, non è che ti devi chiudere. Non sia mai. Però, diciamo, è un gioco magari anche più elaborato, meno in verticale. Io spero, vabbè, ripeto, poi dovremo vedere con Pescara e Sporting Lisbona, ma soprattutto con Parma, Genoa, Juventus, Atalanta e tutte le altre partite del calendario, della stagione, in Europa League e così via. E quindi, non lo so, dobbiamo vedere, io non sono entusiasta di questo 4-2-3-1 perché penso che sia troppo sbilanciato, penso che il centrocampo debba essere a 3, penso che sia una squadra non adatta per il 4-2-3-1 perché non è una squadra che ha quella forza. Cioè, a parte che, cioè, non vedo una squadra dominante, per me il 4-2-3-1 è un tipo di sistema di gioco che devi dominare poi la partita, perché è un sistema scoperto, a meno che dipende ovviamente dal trequartista, perché se giochi con Elmas trequartista allora lo puoi fare perché non sei molto sbilanciato, perché comunque Elmas è un giocatore che sì, in nazionale gioca trequartista, però comunque è uno che ha anche capacità di interdizione, uno che corre, quindi se giochi con un 4-2-3-1, con Elmas avanzato, con un Castrovilli per dire, puoi rientrare tranquillamente, fare un 4-5-1 perché stai sicuro che Elmas, o magari Castrovilli, ma comunque anche un Zienischi, un Fabian Ruiz, che per me non sono trequartisti, però se vengono purtroppo a volte interpretati in quella zona di campo, comunque è più facile che retrocedano e formino un 4-5-1, ma se giochi con un Mertens trequartista, Mertens è uno che non si sacrifica più di tanto, Mertens è uno che poi sei costretto a difendere un 4-4-2 perché difficilmente Mertens rientra, e non sono molto convinto perché Gattuso, ripeto, in conferenza stampa la sua presentazione, ma ha più volte ribadito che a lui non piace un 4-4-2 e lui piace difendere un 4-5-1, che si è, sai, più coperto, non lo so, vedremo, vedremo, quindi io penso che il 4-2-3-1 debba essere da gara in corso, io ripeto, sì, forse per far giocare meglio Semen, Mertens ci vuole, però si può anche elaborare un tipo di tattica, diciamo, di far, se fai un centrocampo più forte fisicamente, magari con quella, con questa voce di Fabian Ruiz, che si dice che potrebbe andare via, anche se è stato smentito, io, vabbè, ci spero sempre, con poche speranze, ma ci spero sempre, e in un arrivo magari di un Castrovilli, se fai un centrocampo, Castrovilli o comunque Zienischi, Demme e Veritù è un centrocampo forte fisicamente, è un centrocampo che ha comunque anche qualità e capacità di palleggio, e giocando poi con Di Lorenzo e due centrali che poi si vedranno, se li si sposano bene insieme, si spera Meretti in porto comunque uno spina, un terzino sinistro che abbia entrambe le fasi, non Mario Rui, perché Mario Rui ha più o meno una fase, in difesa a me non fa impazzire, mentre invece adattarci Yusai ha solo la fase difensiva e poca quella offensiva, adattarci Goulam non hai niente, perché Goulam è un po' un defunto ormai, mi dispiace veramente tanto, quindi se compri un Reguilon per esempio, sarebbe un sogno, o un Emerson Palmieri, hai quel giocatore che va avanti e indietro e ti fa entrambe le fasce, tu puoi anche dare meno compiti difensivi a Insigne, sempre farlo rientrare, ma non andare a far chiudere le diagonali, o comunque io quando stavo allo stadio vedevo proprio Insigne, ma anche in Coppa Italia, che andava, non dico in area di rigore, ma quasi a difendere, quindi magari lo fai correre di meno, per aumentare, comunque per farlo stancare di meno, e lo fai giocare magari più stretto, comunque lui rientra al campo, gli dasci quella libertà, però diciamo, lo fai giocare più vicino a Ossimène, gli fai fare una specie di seconda punta, Insigne è un giocatore che secondo me può fare questo, lo fa in nazionale, io mi sto ispirando un po' a come gioca la nazionale di Mancini, che penso a Insigne che si accentra molto e gioca molto vicino, in fase ovviamente quando sei in area di rigore e stai attaccando, Insigne è uno che gioca molto vicino alla prima punta, è uno che gioca, che dialoga molto, poi invece nel resto della partita è uno che retrocede e tutto, quindi io mi immagino un Insigne molto da nazionale, che non è molto lontano dall'Insigne che abbiamo visto nella metà di stagione con Gattuso, solo che abbiamo visto forse un Insigne un po' più uomo squadra, un po' più tornante, un po' più regista offensivo, che è un Insigne da area di rigore, si è visto anche dal numero di gol che li ha fatti praticamente tutti sul rigore, però comunque le azioni che ha creato, le azioni che faceva partire erano veramente tante, ha sempre detto Insigne è il faro di questa squadra. Per il resto non c'è molto da dire, diciamo che non mi ha fatto impazzire la prestazione, diciamo loro si sono chiusi in undici in area di rigore, quindi comunque era anche abbastanza difficile, ogni tanto sono anche ripartiti, è a dir la verità, con Coulibaly e Luperto che hanno un po' fatto qualche errore, diciamo, però ci può stare, perché diciamo magari con il Teramo non è che l'attenzione è al 100%, quindi non erano comunque neanche tutti i titolari, cioè non c'era quasi nessun titolare, c'era Giusto Simen, Coulibaly, forse Lozano a questo punto, e purtroppo Spina che sarà il titolare, mi sa, io sapete come la penso, spero che Meret sia il titolare. Comunque chiudo il ragionamento dicendo che a sto punto io sento nomi di mercato, e io ho già dato i nomi che vorrei, però io dico, cioè, se non arriva Bogà, non prendiamo Yunder, teniamo tutino, cioè è una cosa, magari tutti dite, ma che sta dicendo questo? No invece, perché alla fine Yunder lo paghi 25-20 milioni, gli devi dare comunque almeno, almeno proprio se ti va benissimo, un milione e mezzo di ingaggio, ma secondo me è anche due, perché non so quanto prende a Roma, è uno che ha fatto alla fine due mesi buoni con la Roma nel 2018, poi ha fatto qualche partita buona nel 2018-19, quest'anno non ha fatto assolutamente niente, è un giocatore sopravvalutato, e non è uno che ti fa fare il salto di qualità, a sto punto se vuoi puntare, come penso che si stia pensando molto adesso di nuovo sullo Zano e su Politano, e tieni quella coppia lì, insigne, visto che è uno inamovibile, a questo punto prenditi un, se non riesci a prendere Bogà, che sarebbe l'ideale, a sto punto prenditi tutino, tieniti tutino, che è uno che per forza di cose nella lista, è un primavera, quindi comunque per la lista fa bene, è napoletano ed è bello averlo, è uno che sa lì, zitto, prende poco, è tuo, è gratis, lo prendi gratis praticamente, l'hai già fatto crescere ovunque facendo gli anni in serie B, ha fatto sempre bene in serie B, anche in serie C, non è uno che ti aggiunge cose rispetto magari a un Junes, o a un Unas, o a un Junder, o a un Breccalo, a uno di questi giocatori qui, tienilo lì alla sinistra, tanti insigne non lo cambi mai, fai alternare lo Zano e Politano a destra, se non dovesse arrivare Bogà, poi io se sapete, se dovesse arrivare Bogà, Bogà a destra, e poi ci sono lo Zano e Politano che subentrano a gara in corso, ma in signo si viene Bogà, è il mio tridente, il tridente che vorrei. Stesso discorso lo faccio per il centrocampo, centrocampo, perché prendere un, se non riesci a prendere vere tu, e si sentono nomi di tizi russi o di non so che cosa, ma cavolo, magari tieniti un Gaetano, tieniti un Gaetano, che differenza ti fa tra un giovane russo di 19 anni e Gaetano che è uno che è napoletano e forte, quanta differenza ti può fare? Poi mi dici, non hai esperienza, ma perché il 19enne russo tiene tutta questa esperienza rispetto a un Gaetano? Non lo so. Però, vabbè, queste sono poi valutazioni che fa il grande Cristiano Giuntoli. Speriamo bene, speriamo bene. Comunque ci rivediamo alla prossima, iscrivetevi e se vi interessano i contenuti, mettete mi piace se il video vi è piaciuto e un saluto a tutti, sempre Forza Napoli.